A grandi passi ci avviciniamo al termine di questo campionato e per il Vasso Girardi sarà fondamentale affrontare le ultime cinque giornate con la giusta determinazione. La truppa alto molisane è partita oggi per la difficile trasferta in programma domani ad Ascoli Piceno contro una squadra reduce da tre pareggi consecutivi, attualmente a metà classifica con 37 punti, una stagione tutto sommato positiva per i marchigiani. In serie positiva da tre turni, grazie ai due pareggi contro Termoli e Campobasso e dal successo di misura sul Matese, il Vasso Girardi non ha alcuna intenzione di interrompere la serie positiva. La squadra è attualmente in zona play-out con 26 punti, ma la situazione resta complicata. Con un occhio sempre attento sul Fano, domani impegnato nello scontro diretto in trasferta contro il Tivoli, domani gialloblu scenderanno in campo per conquistare l'intera posta in palio. Il risultato questo, che permetterebbe al gruppo di guardare i prossimi impegni con maggiore serenità. L'Aquila, Senigallia, Tivoli e Roma City. Questo è il cammino degli altomolisani, che comunque non guardano oltre il prossimo avversario, ovvero l'Ascoli. Mister Marmorini potrebbe riproporre l'undici visto in opera prima della sosta pasquale. Unico assente Gargiulo, fermato dal giudice sportivo per tre turni. In diffida, invece, Ruggeri. In Porta Servalli, difesa composta da Anzalone, Zuccherato, Visani e Capitano Ruggeri. Al centro del campo, Cecuzzi, con Cesaroni e Iacullo più avanti. In attacco, Caon, Lisi e Fontana. Allo stadio Don Mauro Bartolini, dalle 15. Atletico Ascoli, Vasto Girardi sarà diretta da Michele Coppola della sezione di Castellammare di Stabia. Assistito da Gianluca Guerra di Nola e Giovanni Di Meglio di Napoli.